Le anime reclamano il vostro aiuto. 10 luglio 1978. Figli miei, sia pace a voi. Siate benvenuti, e siate ripieni di quella gioia che la fede e la preghiera portano alle anime. Io sono la madre della Santa Speranza, e desidero che voi, ponendo in me la vostra fiducia, abbiate ad acquistare e a mantenere quella serenità di cui avete bisogno. Quando la mamma si intrattiene coi suoi figli, chiede qualche cosa e dona molte cose. Che cosa chiedo io a voi? Vi chiedo le vostre sofferenze. Sofferenze fisiche, morali e spirituali. Che cosa ne farò di esse? Le sofferenze sono le gemme di cui voglio ornare quella corona che un giorno vi cingerà il capo. Le vostre sofferenze sono come monete preziose che io offro al Padre, perché per esse, unite al sangue di Gesù, si possano ottenere tutte quelle conversioni che vi stanno a cuore e che il mio Gesù, figlio di Dio, tanto desidera. Gli uomini furono creati per il Paradiso. Ogni anima che si danna è come una sconfitta per il mio figlio. Le anime che si salvano sono per lui il trofeo di gloria. Ebbene, figli, le vostre sofferenze completano quelle sofferenze di cui il figlio di Dio vi ha fatto dono sulla croce, e servono per richiamare e portare a salvezza i miei figli. Voi pure avete qualche cosa da espiare, ma coloro che vivono costantemente in peccato sono i più lontani, sono i morti alla grazia di Dio, che soltanto Lui può salvare. Figli, avete sentito il fatto evangelico raccontato dall'Evangelista Matteo. Un giorno si avvicina al Maestro un uomo che, supplicandolo, gli dice, mia figlia è morta da poche ore, vieni ad imporle le mani perché torni a vivere. Gesù va e, allontanata la folla, richiama la morta alla vita. Voi dovete fare come quell'uomo. Le anime reclamano il vostro interessamento, il vostro aiuto. Siete voi che dovete insistere perché Gesù operi ancora quei miracoli che compì durante la sua vita mortale. Durante il tragitto per recarsi alla casa di quell'uomo, una donna, colpita da emorragia da diversi anni, si avvicinò al Maestro e gli toccò il mantello. Pensava dentro di sé, se riesco anche solo a toccargli il mantello, sarò guarita. Così fu. Il Maestro, voltandosi verso di lei, le disse, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Ed ella fu guarita. Figli, se voi conosceste il dono della fede, non mi chiedereste che di poterla aumentare, poiché da essa provengono tutte le altre grazie. Vi ho detto di chiedere la conversione di molti per mezzo delle vostre croci, delle vostre lacrime, dei vostri mali, ma il primo vantaggio sarà vostro, poiché il Signore premierà la vostra fede e vi concederà di più di quel che chiedete. Ed ora vi benedico. A tutti vorrei dire una parola particolare, ma supplisce il mio abbraccio materno e il mio tenero bacio. Arrivederci, figli!